Sulla situazione dei medici, gettonisti, è intervenuto l'assessore regionale alla sanità Federico Riboldi. Per i medici gettonisti, sottolinea Riboldi in una nota diffusa, stiamo lavorando per invertire la rotta e già nei prossimi mesi vedremo gli effetti positivi delle azioni che stiamo portando avanti. I dati che sono emersi in occasione della recente udienza della Corte dei Conti per la parifica del bilancio regionale si riferiscono al 2020. News 24, la tua nuova TV locale.